signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale in questo periodo per la rubrica ld20 system stiamo vedendo come creare e modificare i mostri andremo avanti probabilmente per un altro paio di settimane però mi è capitato di dire molto spesso in questa serie di video che creare e modificare i mostri è un'attività lunga e complessa e che richiede molto impegno da parte del master in cui è molto facile sbagliare a questo punto però sorge spontanea una domanda se andare a modificare creare i mostri è un'attività così snarvante per quale motivo un master dovrebbe volontariamente mettersi a farlo creare e modificare i mostri sicuramente è un'attività complessa in cui è molto facile sbagliare non deve essere una cosa presa leggera e richiede che il master abbia una comprensione abbastanza profonda del regolamento per cui sta scrivendo questi mostri che si parli di 20 che si parli un altro gioco meccanico in realtà indifferente ovviamente però fin tanto che non si sbaglia non si può iniziare a imparare quindi anche il master non dico neofita ma con un'esperienza limitata dovrebbe cominciare magari non a creare i mostri ma cominciare a pensare di cominciare a modificare alcuni mostri che presenterà nelle sue campagne al di là del mero sfoggio di abilità personale ci sono anche degli ottimi motivi per cominciare il prima possibile a mettersi a giocare con le statistiche dei mostri già solo il fatto di doversi andare a studiare bene i mostri ed andarli a modificare prevede che il master faccia un lavoro di studio non solo del mostro ma anche di altri mostri comparabili per capire per quale motivo gli sviluppatori del gioco hanno fatto determinate scelte al posto di altre e a seconda del mostro capire perché un mostro ha determinata abilità e un mostro ne ha un'altra potrebbe sembrare una motivazione incredibilmente banale ma questo aiuterà indirettamente molto il master non solo a impratichirsi sui mostri ma impratichirsi sulla filosofia generale del sistema fare il master è un'attività lunga complessa e che richiede una grande cura per i dettagli qualunque attività aiuti a migliorare nella propria formazione come master anche se non è direttamente collegata è comunque qualcosa che più ce n'è meglio è studiare i mostri sicuramente costringe il master all'automiglioramento e quindi è un'attività più che lecita da fare anche se poi magari quei mostri non verranno mai effettivamente utilizzati in questo altro motivo importante per crearsi da soli i propri mostri o modificarli è quello di venire incontro alle esigenze del proprio party la maggior parte dei mostri che trovate sui bestiari principalmente parlando sempre dei giochi di tipo meccanico sono pensati per essere un incontro e venire incontro alle capacità del fantomatico gruppo standard di giocatori ma nella pratica come detto già in un video non esiste il gruppo standard di giocatori un mostro presentato sul bestiario potrebbe essere troppo forte o troppo poco forte per il gruppo a cui realmente state masterando in quel momento basta solo che prenda in considerazioni capacità che il party dovrebbe avere o non ha o che ha o non dovrebbe avere andando sul banale il drago rosso sputa fuoco potrebbe essere un incontro non interessante né per il gruppo totalmente invulnerabile al fuoco che lo farà fuori in un round né per il gruppo totalmente incapace di fargli danni e quindi destinato al macello a questo punto sarebbe molto più facile fare qualche minimo cambiamento magari trasformare quel drago che sputa fuoco in un drago che sputa ghiaccio per renderlo un incontro effettivamente decente da schiarare contro i giocatori senza magari dover andare a cambiare totalmente l'impianto dell'incontro che avete pensato esclusi i motivi meccanici ci sono anche delle motivazioni che riguardano proprio la storia e la sua narrazione la maggior parte dei mostri presenti sui mostrari sono lì per adattarsi o a un'ambientazione generica sul manuale idnd sono presenti molti mostri del fantasy classico o in altri casi per adattarsi ad elementi specifici della narrazione se voi prendete il manuale in nome nera ovviamente tra i mostri troverete un sacco di nome nera ma se voi state utilizzando la vostra ambientazione o avete pesantemente modificato l'ambientazione ufficiale di un gioco la presenza di questi mostri potrebbe andare a disturbare la coerenza della vostra narrazione e di conseguenza per perdere di verosimiglianza nel racconto che state portando portando così alla perdita della sospensione dell'incredulità da parte dei giocatori ne abbiamo già parlato in un video piuttosto linko qui da qualche parte però ne abbiamo parlato anche recentemente in un altro video e questo ovviamente è qualcosa da evitare merita che voi lavoriate per adattare il mostro alla vostra ambientazione se voi avete preso l'ambientazione fantasy classica diciamo i forgottem riams ma avete deciso che no a voi i draghi non piacciono quindi avete tolti ma avete deciso di inserire le armi da fuoco automatiche adesso avete due problemi uno di natura meccanica vi serve un mostro grosso che vada a sostituire il drago nella sua funzione del gioco e un altro è anche un problema punto di coerenza se le armi meccaniche se le armi da fuoco sono diffuse perché nessuno ha mai pensato di montarne una sopra un golem a questo punto non solo dovrete prendere il drago e modificarlo per renderlo qualcos'altro o creare un mostro da zero che vada a sostituire quella nicchia ma vi convara anche prendere un paio di tipi di golem e modificarli per dargli le armi da fuoco questo favorirà non solo l'integrazione di queste modifiche all'interno dell'ambientazione ma aiuterà anche i giocatori tramite la narrazione in diretta a capire di cosa stiamo parlando sì in questo mondo le armi da fuoco sono comuni talmente tanto che anche quel golem laggiù ne ha una infine forse la motivazione più importante è quella di andare a sopperire a delle mancanze sia per scarsità del materiale originale sia perché la vostra agenda creativa come master vi porta a dover inserire delle creature o dei personaggi che non sono stati originariamente previsti dal sistema se state giocando utilizzando il d20 system questo problema probabilmente non vi si porrà mai tra le sue varie incarnazioni avete mostrare i pieni di migliaia di mostri molti più di quelli che ha ragionevolmente un master utilizzerà mai in tutta la sua carriera come master però in questo non vale per tutti i giochi e molti altri sistemi hanno dei bestiari veramente scarni che presentano soltanto i mostri più iconici o più caratteristici e lasciano che sia il master a integrare le cose lavorando per conto suo senza contare che ovviamente indipendentemente da quanti manuali dei mostri un sistema possa avere quello che interessa a voi è il materiale che effettivamente possedete o siete comunque in grado di procurarvi se un mostro è presente su un bestiario e a quel bestiario voi non potete leggerlo quel mostro per voi fondamentalmente non esiste ma può anche darsi che semplicemente l'arco narrativo principale della vostra campagna o anche solo della quest che state master in quel momento abbia un tema o abbia delle necessità che non sono state originariamente previste agli sviluppatori del gioco o che anche se previste non sono state così approfondite andiamo sul banale continuiamo a parlare di dungeon on sand dragon in dungeon on sand dragon così a mente mi vengono in mente una dozzina se non di più di mostri che sfruttano il buio come fonte di tensione e fonte di pericolo se fate una campagna che abbia come tema la paura del buio probabilmente avete mostri in abbondanza però me ne viene in mente solamente uno che sfrutti la luce come fonte di pericolo se la vostra campagna sicuramente atipica ma fattibile riguarda il pericolo della luce l'impossibilità di vedere per la luce vi trovereste fisicamente privi di mostri da mettere contro i vostri giocatori per completare un arco narrativo non potete fare un'intera storia con un solo mostro dello stesso tipo a questo punto se non volete dover rinunciare alle vostre esigenze creative perfettamente legittimo potete decidere che quel sistema non funziona e passare a un altro sistema o decidere che semplicemente quella questa non è adatta però se voi non volete rinunciare e avete le conoscenze meccaniche che vi permettono di creare da solo il proprio mostro avrete sempre dei mostri in più e non dovete mai preoccuparvi di seguire quello che gli sviluppatori hanno pensato potete agire indipendentemente come preferite ovviamente la lista dei motivi per cui è importante che un master modifichi e crei i propri mostri non si esaurisce qui però se dovessimo andare a spiegare in dettagli ogni singolo aspetto faremo un video che dura delle ore e questo video mi sa è già durato fin troppo a questo punto però mi piacerebbe sapere da voi quali sono i motivi che spingono voi a modificare i vostri mostri o quali sono i motivi che vi spingono a non farlo fatemelo come sempre sapere nell'area dei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo nel prossimo video